Il sogno del Catania di essere ripescato in Serie B sembra potersi concretizzare più che mai. Ormai da 48 ore nell'ambiente rossazzurro non si parla d'altro e le graduatorie continuano a dare ragione agli etnei che secondo tutti occupano realmente una posizione di favore rispetto a numerose concorrenti. Qualcuno dice che il Catania sia primo in ordine di merito, qualcun'altro sostiene che sia secondo alle spalle del Novara. Però sarà la FIGC a stirare definitivamente la graduatoria e a tal proposito la situazione dovrebbe essere chiara entro domani sera. Il Catania ci spera e lo stesso vale per l'ambiente rossazzurro che adesso sogna di poter accorciare i tempi del salto di categoria verso la Serie A in modo netto riguadagnando quella Serie B scippata 4 anni fa ai tempi dei treni del gol. L'omonocaggio ha dichiarato che il Catania è pronto ad affrontare la battaglia per il ripescaggio avendo al tempo stesso tutte le carte in regola per rispettare le eventuali scadenze economiche che si prospetteranno. Nel frattempo la società rossa-azzurra continua a lavorare con attenzione sul calciomercato e ieri la dirigenza etnea si è assicurata di sì di Pasquale Maiorino trovando l'accordo con il Livorno e regalando l'ottavo nuovo acquisto a Sottil che aveva messo il trequartista in cima alla lista dei propri desideri.